Artigiani e commercianti, i sindacati veneti hanno inviato una lettera al presidente Zaia, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarina, il direttore di prevenzione e sanità pubblica Michele Mongillo per spingere sulla campagna vaccinale e far rientrare le categorie che lavorano con il pubblico tra i soggetti a cui dare priorità. Parallelamente dagli artigiani è partita stamattina una lettera ai parlamentari veneti per spingere invece verso una riapertura dei saloni che non stanno lavorando da due settimane. Loro dicono noi siamo chiusi perché dobbiamo tenere tutte le attenzioni e quant'altro e si incentiva il lavoro tra virgolette sommerso, irregolare e quindi questo non va bene perché oltre al danno anche la beffa. È evidente che il provvedimento è nazionale, i parlamentari possono essere attori anche verso il decisore governativo. Insomma si esercita abusivamente magari a domicilio con il rischio addirittura di alimentare il contagio. La conferma arriva dal presidente trevigiano Sartor. Intanto la categoria delle lavanderie lancia un nuovo appello. Sono tra i servizi considerati essenziali, sempre aperti, ma con cali di fatturato impressionanti. Noi siamo legati a filo diretto con tutti quelli che sono il circolo dei ristoratori, dello sport, della montagna. Quindi noi sì siamo aperti ma abbiamo avuto cali che per chi è andata bene, verso il 48-50%, c'è chi è andata male e arriva al 70%. Siamo aperti ma non lavoriamo. A pagare oltre alle chiusure anche la diffidenza dei clienti che temono i capi non siano adeguatamente igienizzati. Da qui la campagna di confartigionato dal titolo Questo è un capo sicuro.